Ciao ragazzi, allora lunedì 5 giugno alle ore 20.45 come promesso farò la live dedicata esclusivamente a tutti coloro che sono abbonati al mio canale livello alchimia ed esoterismo. La live durerà due ore, parlerò delle leggi universali, di come affrontare alcuni problemi anche se si chiamano problemi ma in realtà sono opportunità, come sviluppare una mente marziale quindi a livello etico e disciplinato per far sì che la persona che giochi in questo gioco che si chiama vita non incappi in situazioni troppo lunghe di ansia, stress, attacchi di panico e quant'altro. Dopo molti studi sulla medicina tradizionale cinese, dopo aver vissuto anche in scena, sono venuto alla conoscenza di alcuni aspetti assai interessanti e poi sono andato sempre più nel profondo studiando esoterismo e alchimia. Infatti nella live citerò alcuni personaggi come Bruno Giordano oppure Rudolf Steiner, Bachelard, Gurdjieff, parlerò un po' del percorso della quarta via, un percorso che va fatto anche Battiato, questo lo sanno in pochi. Prettamente mi concentrerò sulle leggi dell'universo, quindi conoscere le leggi universali per giocare meglio appunto il gioco della vita. Ci sarà spazio ovviamente per tutte le domande e faccio questa live perché ultimamente come maestro di arti marziali invece di ricevere all'inizio ricevevo delle mail o dei messaggi più inerenti alle tecniche, invece adesso ricevo dei messaggi più inerenti a un qualcosa se vogliamo dire così psicologico, quindi come sviluppare la mente. Ricordatevi che la mente poi è quella che vi dà l'opportunità di esprimervi a livello fisico, quindi una live molto molto particolare, ripeto è riservata soltanto a tutti coloro che sono abbonati al mio canale YouTube livello alchimia ed esoterismo lunedì 5 giugno alle 20.45 vi metto qui nell'info box il link per abbonarvi. Ciao ragazzi! Ciao!